Un rinnovamento dello spirito e della mente, perché nella vita questo è importante. Tanti cari a tutti. Sette anni molto intensi, le chiedo un resoconto come è andata. Direi che è andata bene, forse non sono io a doverlo dire da sola, però l'ufficio ha retto a tutte le varie sfide che si sono presentate, tempi molto difficili sono stati questi che abbiamo affrontato. Ho letto prima i numeri della nostra produzione e io sono personalmente molto soddisfatta sia del lavoro che abbiamo fatto, della situazione che lascio e penso anche della buona opinione che i nostri cittadini hanno di questo ufficio, di questa procura. Possiamo ricordare anche alcuni numeri, alcuni dati? Stiamo parlando di almeno 15.000 procedimenti noti, 14.000 ignotti, 6.300 mi pare di giudici di pace, fronteggiati bene al punto che non lascio un fascicolo d'arretrato in questa procura e questo credo che sia importante per la gente. Dopo sette anni tornerà ad Ancona per l'incarico di procuratore al Tribunale dei minorenni. Si torna ad Ancona con un lavoro molto impegnativo che si prospetta. Una cosa io posso assicurare certamente, il mio assoluto impegno. Ce la metterò tutta. Grazie. Grazie.